Ciao! Allora, nuovo video, vi faccio vedere cosa ho comprato da ArcaPlanet. Se vi piacciono questi video, diciamo, shopping degli animali, fatemelo sapere perché così ne faccio altri, cioè nuovo shopping per i gatti e per i conigli. Allora, a parte UGAT, UGAT, ho preso la lettiera, sto provando tante lettiere, per il momento ho preso questa. Che volevo vedere se era buona, questa qua, Diamond Car, quella che fa le palle e poi la butti nel sacchetti. Ne ho presi tre e la quarta l'ho presa su Amazon. Poi, a parte UGAT, sei buona, lo so che c'è la pappa qua dentro. Comunque, sacchettini. Allora, mi hanno fatto tanti sconti al 50% sul cibo, per cui mi hanno regalato anche la copertina, che poi questa la vediamo insieme, in omaggio. Ho preso cibo per i gattini. Questo è il primo che lo prendo, lo voglio provare. E questo è al pollo. Non lo so. Fatemi sapere se anche se voi l'avete provato per i vostri gatti e se li siete trovati bene. Io voglio che il loro pelo sia lucido e bello morbido. Infatti, come vedete, per adesso ce l'hanno morbido e liscio. Magari se stacchi e molla. E poi, teppuccino. Cattiva. Vabbè, intanto che lei gioca a rompere le scatole. Comunque, pollo fresco. Questo qua. Perché c'è scritto che non ha cereali. Senza cereali. Me l'ha consigliato la commessa. Per cui, questo. Che l'ho pagato col 50% di sconto. Da 16 euro, mi sembra 12. Poi ho preso tutti questi. Anche questo 50% del kitten. Che ovviamente loro sono ancora piccoli. Ho preso pollo e tacchino. Ne ho preso un bel po'. Quanti ne ho presi. Un bel po' ne ho presi. Ho preso questi. Sono quattro. Ah, ho preso anche un manzo. Per cui cinque. Sei. Sette con pollo e manzo. Aspetta un attimo. Poi ne ho presi altri. Perché ci sono i giochi. Lei mi ciura i giochi, sì. E un altro. Ho perso il conto perché me ne ha fatto vedere. Aspetta, aspetta, aspetta. Io ho preso i giochi. I nuovi giochi perché non ce l'hanno. Questo qua. Col granchio. Aspetta un attimo. Questo 4,99 euro. Carino. Fatto così. E adesso lo lascio. Comunque questo. Adesso vi farò vedere anche lo scontrino. Poi gli ho preso. Fanbrodo. Questo. Così a forma di nuvoletta. Con le palline. Che anche questo è carino. Io ne ho presi due perché ho detto. Se si rompe uno almeno. No, tutti e due. Ma cosa sta? Poi gli ho preso. I collari. Perché quelli che avevo preso prima. Non andavano bene con il laccio. Allora gli ho preso. Ah, questo qua mi sembra. Aspettate. Questo è 3,99 euro. Invece i collari 5,05 euro. Ho trovato solo questo colore. Giallo per perla. Con la pallina. Che poi gli metto. L'etichetta. La, sì, l'etichetta. La targhetta per l'ora. E questo è per budino. Che è azzurro. Sempre 5 euro. Così almeno se per caso scappano fuori dalla porta. Ma spero che non succederà mai. Con questo qua la dovrebbe resistere. E hanno la sua targhetta. Poi gli ho preso questo. Per pulci zecche. Perché adesso. Ho notato che ha qualche insetto nel corpo. Per cui diciamo che ho preso questi. 29 euro mi sembra questo. Per cui gli ho preso questi. E spero che funziona. Poi. Altre bustine. Non so quante ne ho presi. Credo. Quasi tutte. Ah, mi sono polle e tacchini un poche parole. Se. Salmone non glielo ho presi. Vabbè. Poi gli ho preso. Questo qua. Per. Tipo uno shampoo. Senza risciacqua. All'aloe vera. Ma l'hanno consigliato. Peno morbido e brillante. Questo. Lo provo e vediamo se è buono. Per. Per. Almeno. Lasciargli un odore sul pelo. Perché. Certe volte putzano. Altra. Questa mi sembra. 50 centesimi forse. Do guarda il prezzo. Io ho preso gli snack liquidi. Uno al pollo. Anzi. Due al pollo. E. E due al sannone. Questi sono buoni. Loro vanno pazzi. Ogni tanto gliele donano. Sempre. Per cui questi qua. Poi gli ho preso questo. Che per. Per far sì che loro. Iniziano a graffiare. Ma gli hai dato il gioco? No. Se l'hanno. Me l'hanno ciulato. E apriglielo no. Questo 1 euro e 95 serve. Per far sì che. Con questa. Lascia. Loro. Graffiano. Diciamo. Dove. Metti questa cosa qua. Da quello che ho capito. L'ha preso il mio ragazzo. Poi gli ho preso. I biscottini. Questi mi sembra. Ah. Questi ha il gusto di salmone. Questi qua. Sempre la stessa marca. Scontati. E gli ho preso questi. Poi. Gli ho preso questo giochino qua. Il laser. 5 euro e 15. Spero che funziona. Perché sennò. Cioè. Deve funzionare. Dato che 5 euro. Per far giocare i gatti. Dopo lo usiamo insieme. E poi. Gli ho preso la spazzola. Per spazzolarli. Grazie. E dai. Vammi. E via. Questa qua. Per spazzolare. I gatti. Il pelo medio lungo. E di tutto. Di più. Questa. 10 euro e 99. Ce ne sono due. Va che. Mamma mia. E poi. Credo. Basta. Mi scusi. Mi scusi. Ma. Scusi. Ma. Puoi andare. Un po'. Un po'. Lo picchi. Sai. Le palline. Mi piace. Sai. E' un po'. Sai. Comunque. E niente. Credo. Che ho finito. Perché. Saccato è vuota. E niente. Queste. Tutte le cose. Che ho comprato. Per loro. Fatemi sapere. Se vi piacciono. Questi video. Degli acquisti. Per gli animali. E. E basta. Se mai. Vi metto. Qualche clip. Adesso. Dove giocano. Con. Con questi qua. E. Laser. E basta. Alla fine. Ho preso. Tutte cose. Di pollo. E due. Di manzo. Vabbè. Erano in promozione. Poi. Se prendevi questo qua. Per i gattini. Era appunto. Scontato. Dov'è lo scontrino? Qua. Scontrino. Totale. 118 euro. Come vedete. I prezzi. Me l'hanno scontati. Praticamente. Tutti. La lettiere. Costata. 12 euro. E 99. Poi. Il liquido snack. Mi sembra. 3 euro e 99. Se non sbaglio. Non si capisce niente. Comunque. Questi sono i prezzi. Che. Le guardate voi. Fate prima. Perché se le dico io. Ciao. Tutti questi prezzi qui. Tutti scontati. Le bustine. Me l'hanno scontate. 38 centesimi. Invece. Di 75. Non so. Quante ne ho presi. Comunque. Questo è totale. I punti. Noi abbiamo. Saldo punti. Quanti punti abbiamo? 208 punti. Cioè. Sono 2 euro. Di sconto. Mi quanto? Troppo. Esageriamo. Troppo. Guarda. Troppo. Troppo. Vabbè. Niente. Questo è il risultato. Adesso vi metto qualche clip. Dove giocano. Intanto. Apriamo questo. Così vediamo se. Se ti piacciono. E basta. E fatemi sapere appunto. Se volete. Ah. Apriamo insieme. Questa. Copertina. Che vediamo com'è. Mi sto dimenticando. E niente. Se vi piacciono appunto questi video. Fatemelo sapere. Con un like. Che così ne faccio altri. Tanto poi alla fine. Li guardo tramite le visualizzazioni. Se è piaciuto questo video. Con una mano. Non è facile. Morbida e morbida. È gialla. E diciamo che. C'è scritto. Storie. Cuccioli. Qualcosa. Almeno che le incontrò. No. È così. Non si vede niente. Poi vabbè. È sera. Non si vede. Sul giallo. Beh dai. Carina. C'è chi è scritto. Arcaplanet. Non so se si vede. No. Non si vede niente. E poi c'è scritto. Storie. Cuccioli. Non so cosa vuol dire. Ma comunque. Sì. È carino. Questo va bene per. Per loro. Per il calduccio. Per questo inverno. E basta. Questo. È il risultato. Niente. Vi lascio le clip. E ci vediamo. Al prossimo video. Ciao. Ciao. Salute a Budino. Ciao Budino. Ciao. Ciao Budino. Ciao. Ciao. Sì. Vi saluto anche a Budino. Ciao. 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 Funciona. 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 dammi